Aumentano i morti, ma aumentano anche le persone fermate in guida di assedio di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Che cos'è che non è stato fatto o che cosa bisogna fare in più? Senta, questo è un allarme che abbiamo dato già da diversi mesi. C'è una sottovalutazione da parte degli stessi conducenti delle conseguenze e degli effetti dell'assunzione di alcol e di sostanze. È una causa micidiale di incidenti stradali, di feriti e di vittime. Quindi assolutamente, anche qui, come ho detto prima, bisogna far crescere le coscienze. Noi ci stiamo provando con i giovani, con le scuole. Stiamo mettendo un impegno fortissimo con le nuove generazioni che devono, speriamo e dovranno capire, l'importanza di mettersi alla guida in sicurezza. Quindi non solo non avendo assunto sostanze o non avendo assunto alcol, ma anche, per esempio, non dopo aver mangiato molto, dopo l'autopasto, perché anche questo provoca sonnolenza e quanti incidenti sono di fatto provocati dalla sonnolenza. Quindi esiste una, io ne sono convinto, una resa di coscienza progressiva che deve però essere in ogni modo alimentata ed incrementata. Io credo che lo sforzo che stiamo facendo noi e che stanno facendo le altre forze di polizia, l'autorità di pubblica sicurezza, è uno sforzo che obiettivamente si vede. Lo vede il territorio, lo vedono i cittadini, la nostra presenza è una garanzia che questo sforzo si sta facendo veramente intenso. Però, ripeto, la coscienza dei cittadini deve essere necessariamente, deve accompagnare questo sforzo, perché se no questo sforzo rischia di non avere l'esito che tutti noi ci auguriamo e che tutti noi speriamo. Rispetto allo scorso anno, tra l'altro abbiamo anche visto che sono aumentati i numeri degli incidenti stradali sull'Appia e non sulla Pontina. Il numero degli incidenti stradali è risultato complessivamente, leggermente diminuito, come ho spiegato, dai nostri dati. Quello che purtroppo risulta aumentata è la gravità di alcuni incidenti stradali e l'Appia risulta la strada che oggettivamente, in base ai dati che abbiamo, ha un po' la maglia nera della sicurezza, insomma, o sulla sicurezza per i dati che oggettivamente abbiamo. Però posso dire che anche la strada, insieme alla strada regionale Pontina, che noi ovviamente ogni giorno andiamo a presidiare. Anche qui speriamo che il nostro sforzo abbia dei migliori risultati, obiettivamente. Noi ce la stiamo mettendo tutta.